...durante la fase di atterraggio e di riposizionare i due effetti negli appositi alloggiamenti sopra di voi o sotto la poltrona davanti a voi. In caso di evacuazione di emergenza vi ricordiamo di lasciare tutto a voi. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza potete fare riferimento al cartoncino nella tasca della poltrona di fronte a voi. Grazie. Ladies and gentlemen, in few minutes we will land. Please change your train to restore your seatbelt.